Invitiamo tutti dalla crew, forever and ever, and ever in my memory, dalla crew. Tanta guagna per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock e bentornati nelle fancorse ragazzi. C'è una novità, utilizzerò le fancorse praticamente per testare le gare che andranno, che avrete visto, nella nuova top 5. Quindi adesso concentriamoci ragazzi, analizziamo bene questa gara e vi dico già che è difficile gareggiare e parlare ragazzi. Soprattutto quando, infatti vedete, soprattutto quando gareggi con gente molto brava perché ragazzi nella mia crew c'è gente veramente brava. Ve lo posso assicurare. Comunque, vediamo, bando le ciance, com'è questa gara. E sì, vi ricordo tra l'altro, prima che mi scappi, che potete votare le vostre gare preferite proprio dentro le fancorse attraverso i commenti qua sotto. Quindi ragazzi, se vedete una gara che secondo voi è degna di questa top 5 che ho appena iniziato, che farò, cercherò di fare costantemente. Ovviamente non sarà settimanalmente perché dovete stare tutte le gare eccetera. Quindi vi consiglierò quelle migliori. Voi commentatelo qua sotto. Per adesso nulla di che questa gara è su strada normale, eppure, ecco, iniziamo adesso ragazzi. Iniziamo adesso, iniziamo col primo warride. Ok, no, 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 iniziamo bene ragazzi. Mi son distratto tra l'altro perché era un warride veramente del cavolo. Quindi cerchiamo di rimanere concentrati perché in queste gare basta poco per, ragazzi, basta veramente poco per trovarsi in ultima posizione. Bello, bello questo loop. Non difficile perché c'è un... Ok, entriamo dentro questi tubi. Nella descrizione c'era scritto di utilizzare l'Osiris perché era meglio. Non so perché io non riuscivo a trovare la mia Osiris. Stando attenti a non cadere troppo in là. Porca puttana, porca puttana. Abbiamo sbagliato mira ragazzi, abbiamo sbagliato mira. Stiamo attenti perché non è facile regolare bene l'uscita da questo. Ok, questa volta ce l'abbiamo fatta. Sono indietrissimo ragazzi, sono veramente indietrissimo. Speriamo di... Ok, ce l'abbiamo fatta. Però a noi non importa tanto quanto arriviamo. No, in realtà non è vero un cazzo. Importa tantissimo quanto arriviamo. Però ci importa più che altro capire se questa è una gara abbastanza interessante per essere proposta nella nostra top 5 delle gare migliori su GTA. Sicuramente adesso perché, sapete, la novità andrà comunque... Andranno di più le gare stunt che le vecchie gare. Ma penso che sia normale. Ma che cacchio ha la mia T20 oggi ragazzi? Vabbè, comunque, questa gara ragazzi è andata. Ormai ce la siamo giocata. Quindi cerchiamo comunque di analizzare bene. Non mi piace molto perché ci sono pochi loop. C'è poca novità. C'è tanta strada per adesso. Ma vediamo. Magari il percorso è ancora lungo. Poi non è detto che siamo così indietro. Perché, come sapete, queste gare ci può essere sempre, a un certo punto, il colpo di scena difficile dove tutti sbagliano e magari tu fai la cosa giusta. Infatti, secondo me, non sono delle gare... A livello di competizione, sì, devi essere bravo. Però, alle volte, sono ingiuste. Comunque, Andri primo. Bravo, Andri. Entriamo dentro questo tunnel rosso. Ok, già visto. Niente di che, niente di difficile per ora. Vediamo. Qua dobbiamo girare noi. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Anche qui niente di complicato. Vediamo se riusciamo a recuperare, ragazzi, le posizioni e le persone avanti. Ma ne dubito perché... Eh, vedete. Sono un pochettino... Un bel po' distanti da me perché ho fatto delle cavolate all'inizio. Però, secondo giro. Io direi di votare... Mi dite, guarda, la prima gara, la seconda gara che hai fatto, la terza gara che hai fatto, ragazzi, va benissimo. Oppure mi mettete il titolo della gara, come volete. E poi vi ricordo che potete consigliare delle vostre gare. C'è un modulo fighissimo che ho messo nelle top 5. Arriva magari il link del video delle top 5 gare su GTA. Ve lo metto alla fine di questo video. Così potete tranquillamente andare a vedere. E in descrizione a quel video troverete il modulo che vi sto dicendo da compilare per proporre la vostra gara. E possono essere gare che avete provato voi che sono fighe. Oppure anche gare, ragazzi, fatte da voi, eh. Non c'è assolutamente problema. Ok. Allora, qua cerchiamo di non fare la vacata prima. Tra l'altro siamo terzi. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato, ragazzi. Cerchiamo di non fare la vacata che abbiamo fatto prima. La stiamo già facendo. In questo momento, voi non lo sapete, ma sto registrando con una bella musica epica. Perché mi gasa. Mi gasa. Aspettate, eh. Mi gasa, però non devo cascare. Mi gasa, ma non devo cascare. Mi gasa, ma non devo fare niente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Comunque, una bella musica epica. Voi non la sentirete mai, però è figo, ragazzi. Quando fai le gare, gareggiare con una musica che ti carica. Quindi fatemi sapere voi. Tra l'altro ho già concluso. Perché mi sembra che questa fosse proprio la gara, tra l'altro, proposta da BlackyTube nel modulo. Quindi posso anche capire perché lui era già preparato. Ma che cacchio ha stati i 20, ragazzi. Non siamo arrivati alla fine, ma va bene, ragazzi. Va bene, tra l'altro, neanche per tanto. Comunque, non mi è piaciuta questa gara. Quindi, anche se non siamo arrivati alla fine, ce ne freghiamo altamente. Quindi andiamo subito alla prossima gara. Ok, ragazzi, siamo alla seconda gara. Tra l'altro si chiama Gara Stunt per Guagna. Quindi bisogna assolutamente provarla. Ed è consigliabile farla con la Dune. Ed è stata fatta apposta da uno della crew, ragazzi. Tra l'altro i Dune, io, il Dune, non l'ho ancora provato. Che telecamera è il cavolo. Non l'ho ancora provato. È fatta apposta per i Dune. Adesso capisco perché. Perché ci sono i birilli. Quello con la moto, ammazzati. Io spero che non vada bene. Che figa. Già partiamo bene, ragazzi. E questa è fatta, scusate, da Blacky. No! 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 Che bastardata! Comunque, fatta apposta per i Dune, dicevo. Speriamo che non ci sia un'altra cosa così. No, ragazzi. Madonna, che bastardata sta gara, ragazzi. Andiamogli contro. No! Ma non ci va dritto sto coso. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Questa è la gara di BlackyTube che dicevo. Non quella di prima. Ed è abbastanza bastarda. Questa l'ha fatta lui. E vediamo come va. Per ora mi ha divertito. Lui mi ha consigliato. Usa il Dune. Adesso capisco perché doveva usare il Dune. Perché con la moto era troppo semplice sta gara qua. Guardate come si ribalta sto cacchio di furgone. Guardate. A parte i birilli. Quindi, lui tra l'altro la conosce. Quindi vincerà sicuramente lui. Senza dubbi. Io mi ostino a fare sti loop, ragazzi. Basta frenare che poi ci caschi proprio esattamente dove devi andare. Por... Dove sono? Ma perché sono sopra il Dune? Ma cosa è successo? Ma perché ero sopra? Ma perché? Ma... Ecco... Andri... Ma perché è incontrollabile sto Dune? Guardate che si muove da solo. È impossibile usare. Ragazzi. Beh, allora. La gara mi piace. Però secondo me col Dune non ci sta proprio. Non so perché lui mi ha consigliato il Dune. Però... Guardate come cazzo... Porca puttana... Scusate le parolacce. Però veramente... Bisogna stare attenti. Siamo quarti. Andre che ha usato la moto è ultimo. Quindi significa che, ragazzi... Che è l'unico che ha usato la moto. Quindi significa che effettivamente con la moto è una cosa abbastanza infattibile. Ma è bastardissima sta gara, ragazzi. È veramente bastarda. Tra l'altro il Dune... Cioè, non riesce a stare dritto. Io non ce l'ho neanche personalizzato. Vediamo se questa volta ce la facciamo senza esplodere. Eh no. Ho preso il checkpoint. No, non ho preso sto cacchio di checkpoint. Anche lui, Storm, con sto cacchio di Gipina non ce la sta facendo. Quindi significa che, ragazzi... Con il Dune... Effettivamente è dedicato al Dune. Però... Però... Ste rampe così... Ma cos'è? 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 Sta gara? Ma quanto è pazza sta gara? Raga, è pazzissima. Ma... Non lo so. Non so se... Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Se vi piace. È molto... Ma perché è il turbo lì? Che devo frenare subito? Che c'è una curva? Perché? Perché? Non riesco. Mi sono bloccato. Non va. Perché? Cos'è sta rampa? Così? Cos'è? Cosa insensate? Sembra più una gara da BMX? Sì, ce l'ho fatta da arrivare alla fine. Ma cos'è? Ma raga, cos'è questa gara? Dunque, ragazzi, noi finiamo qui questa puntata. Vi ricordo di commentare sotto. 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 E non sopra l'altro a destra e a manca. Nei commenti. Vi metto alla fine del video la prima top 5 delle gare di GTA, ragazzi. Andatelo subito a vedere. Votate. Guardate in descrizione. Vi ricordo di andarmi, di seguirmi più che andarmi su Instagram e anche su Twitter, se ce lo avete. Soprattutto su Instagram, perché possiamo comunicare anche un po' di più. E detto ciò, ragazzi, qui da Mr. Rock è tutto, ragazzi. E' una figata parlare qua dentro. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e tanta guagna per tutti. Ciao!